Rincaro Bollette, settore del turismo con le spalle al muro Scooter contro SUV, morto 43enne di Fano APA Hotels in lutto, morto il vicepresidente Parco Giochi Viabini, le lamentele di un residente Vispesaro Arzilla, il nuovo calcio femminile pesarese Una buona serata Cari amici e amiche di Rossini TV per questa nuova edizione del Rossini News telegiornale di lunedì 29 di agosto che apriamo parlando delle difficoltà che sta vivendo il settore del turismo dovuto al rincaro delle bollette energetiche A fare il punto sulla situazione è Francesco Ceccarelli, presidente di Visit Gabice Vediamo Il rincaro delle bollette di luce e gas e l'aumento dei costi delle materie prime stanno mettendo a repentaglio la sopravvivenza di molte attività turistiche e imprese È fine agosto e al termine di una stagione estiva impegnativa e ricca di lavoro per tanti albergatori, ristoratori, negozianti e titolari degli stabilimenti balneari Gabice Mare insieme alle sue attività è una di quelle città che aspetta il turismo estivo per tornare a sorridere ma di questi tempi, come ci spiega il presidente di Visit Gabice, Francesco Ceccarelli c'è ben poco da ridere La situazione diciamo che la viviamo su due fronti il fronte dei proprietari dove non dovendo pagare un canone d'affitto sicuramente possono avvalersi di un cuscinetto di sicurezza dal quale attingere per tutta questa serie di aumenti indiscriminati che stiamo subendo dall'altra parte chi gestisce le strutture ricettive che comunque si è fissato dei canoni d'affitto con le proprietà inconsapevoli di tutto quello che sarebbe successo si trovano in questo momento in grossa difficoltà la variazione del PUN che sarebbe il valore che il governo applica alle bollette prezzo unico nazionale aprile 2021 era 0,069 a kilowatt ora agosto 2022 è stimato in 0,637 quindi per 10 rispetto all'anno scorso questo significa che se uno l'anno scorso pagava ad aprile 2000 euro di bolletta quest'anno la va a pagare 20.000 per quanto possiamo essere bravi e visionari nel programmare le nostre attività questo purtroppo stiamo subendo delle situazioni che vanno oltre qualsiasi tipo di logica guarda gli unici che non subiscono questa situazione sono coloro i quali in tempi non sospetti anno 2021 o inizi del 2022 forse no hanno avuto la fortuna di stringere dei contratti con le società che forniscono l'energia elettrica a tariffa fissa allora quelli non hanno subito tutto quello che stanno subendo tutti gli altri conseguenza aumentano le materie prima perché il costo per il trasporto aumenta poi dopo mettiamoci anche un pochino di speculazione da parte di tutti i fornitori tra il caro energia e tutti gli aumenti che stiamo subendo può essere anche che uno arriva alla fine della stagione e dice quest'anno vado in perdita perché purtroppo vuoi la stagione sempre più corta vuoi tutta una serie di circostanze un albergo a settembre chiude quindi si ritrova ad aver lavorato 3-4 mesi e non ha più margine per poter lavorare perché comunque non c'è più motivo per farlo visto che non c'è più gente in giro la richiesta è quella di non nascondersi dietro a un dito perché adesso in questo momento tutte le forze politiche coloro che comunque sia fanno parte del governo o no adesso in questo momento sono in campagna elettorale sono nella fase in cui fanno le promesse ma purtroppo arriveranno lunghi perché quando finirà la campagna elettorale ci saranno le votazioni e le promesse poi bisogna mantenerle bisogna vedere cosa è rimasto dietro perché noi qui paghiamo le bollette oggi non tra sei mesi la speranza è che ci sia un intervento immediato e da tardi per intervenire perché le bollette noi le paghiamo tutti i mesi e soprattutto per chi è stagionale la stagione è alla chiusura e purtroppo non c'è più modo per ritornare indietro per recuperare quello che è già stato perso passiamo ora a tre notizie di cronaca alle 14 di ieri domenica 28 agosto è morto Fabrizio Agostini 43enne di Lucrezza di Cartoceto vittima di un ennesimo incidente stradale l'episodio si è consumato lungo la Flaminia nella frazione di Rosciano e Fabrizio in sella al suo scooter Yamati Max è finito per schiantarsi contro un SUV BMW dove a bordo c'era una famiglia tedesca un impatto tremendo che non ha lasciato speranza al 43enne di Fano deceduto qualche istante dopo l'incidente sul posto oltre che i sanitari e la polizia locale anche il sindaco di Fano Massimo Seri che si stringe al dolore della famiglia 51 anni aveva invece Gianluca Amadei vicepresidente di APA Hotels e che ieri stroncato da un infarto ha lasciato il padre, la moglie Roberta i figli Giovanni e Gianmarco e due fratelli tragedia che si è consumata ieri mattina intorno alle 8 mentre era in casa con la moglie e il figlio più piccolo quando all'improvviso è stato colto da un malore Gianluca oltre che a ricoprire il ruolo di vicepresidente degli albergatori della città di Pesaro aveva in gestione l'hotel Figaro il Blumen e il Promenade la data dei funerali non è stata ancora fissata Lutto nel mondo della magistratura all'età di 85 anni è scomparso ieri all'ospedale San Salvatore il giudice Alfredo Mensitieri che lascia la moglie Eliana e i figli Edoardo, Laura e Eleonora nativo di Imperia ma pesarese dal 1966 quando all'epoca assunse il ruolo di pretore prima di prendere servizio alla corte di Cassazione a Roma fino al 2009 i funerali si svolgeranno mercoledì 31 agosto ma date e orario ancora non sono stati resi noti Ed ora spazio alle vostre segnalazioni come quella che ci è arrivato da un residente di Viabini a Villa San Martino esausto del Trambusto che vive ogni notte Paolo Renzi è un residente di Viabini quartiere Villa San Martino e come tanti altri pensionati e abitanti di quella zona richiede tranquillità e rispetto questo invece quanto non accade nel parco giochi di fronte al suo appartamento che se di giorno vede manifestarsi ordine e silenzio di sera fino a notte fonda la stessa area si trasforma in un luogo dove tanti ragazzi adolescenti si ritrovano senza rispettare le regole del quieto vivere Qui fino a notte tarda quasi mattino diciamo è sempre un gran chiasso un gran rumore i ragazzi che urlano giocano col palone vanno avanti fanno le corse con lo scooter anche qui dentro il parco entrano insomma la cosa è diventata invivibile col palone tutta la notte sempre questo palone che rimbalza boom boom tutta la notte fino alla mattina presto e qui la cosa è diventata insopportabile vai a dire qualche cosa ti minacciano anche ti dicono che devo fare non devo rompere le scatole non devo rompere e qui io chiedo solo alle maestranze che ci sia un po' più di sorveglianza anche se i ragazzi loro vogliono giocare noi vogliamo dormire però la cosa non va avanti così non si può andare avanti così fino a notte fonda fino alle 3 alle 4 del mattino che non le permette di dormire sì fino alle 3 alle 4 del mattino e la cosa va avanti così sarà 3-4 mesi da quanto è finita la scuola è impossibile riposare e io chiedo solo questo che almeno almeno che ci sia un po' di sorveglianza un po' anche un po' di rispettabilità nei nostri confronti tanto noi abbiamo lavorato siamo pensionati abbiamo diritto anche di riposare un po' e non lo so e poi in questo parco è stato chiuso un pezzo di strada per facilitare diciamo il gioco dei bambini invece viene usato in un altro modo infatti è così c'è il parco lì la strada che viene chiusa da lassù dove c'è i paletti fino a qui lì è tutto libero i ragazzi i bambini devono giocare perché fanno giocano a campanaccia non so cosa fanno ma dopo un certo ora viene preso d'assalto da questi ragazzi col palone girano il palone tirano e poi con lo scooter fanno le corse vanno contro mano non hanno più rispetto di niente qui va questa è una strada contro mano passano di là arrivano qua tagliano la strada nel campo lei dovrebbe stare qui una sera deve venire qui una sera e lo vede come è veramente perché a spiegarlo è sempre possibile sport per tutti e questo è il nome del bando orientato a proporre quattro corsi volti alla sensibilizzazione su quattro importanti tematiche presentazione che è avvenuta questa mattina e che potrete seguire domani sera lo speciale televisivo realizzato da Rossini TV alle ore 21.20 ora però guardiamone un estratto questa conferenza stampa è dato perché abbiamo riunito quattro progetti di sport e salute che hanno dato alla federazione italiana pentatron moderno 120.000 euro che ha diviso in tutta Italia tramite un bando pubblico per chi volesse praticamente concorrere praticamente noi abbiamo come pesaro avevo concorso in quattro associazioni lo sport di futura nasce da un interesse verso il sociale e soprattutto nel periodo in cui stiamo vivendo ad oggi nel educare i nostri ragazzi a un rispetto verso il nostro ambiente e verso la nostra diciamo cultura perché fondamentalmente lo sport è cultura anche a livello di sostenibilità ambientale il progetto si basa su l'inclusione sociale e il disagio sociale chiaramente in questo progetto ha una fascia di età che va dai 6 ai 16 anni e che come diciamo parametro ha l'ISE sotto i 15.000 euro e la disabilità che noi dovremmo valutare in base al nostro organico di tecnici e di ovviamente struttura sociale e si presenteranno le domande tramite questo cartellino che ha un QR code e ha un numero di cellulare e basta chiamare o iscriversi e noi accoglieremo le domande abbiamo una possibilità di avere fino a 30 ragazzini o bambini che ovviamente non praticano altri sport perché questi corsi sono a fine sociale e sono gratuiti siamo riusciti a portare avanti queste quattro tematiche in generale la mia nella fattispecie è quella dove andiamo a cercare di stimolare quelli che sono i bambini dai 6 ai 18 anni a un'attività attraverso l'attività uno stile di vita diciamo buono a livello psicofisico entrerà anche all'interno delle scuole attraverso poi le scuole cercheremo di fare entrare anche nelle attività pomeridiane per poi nella conclusione del progetto intorno al dicembre sperando poi nella continuità di questi ragazzi che continuino insomma a praticare lo sport il seminario di questa mattina al quale ci avete invitato a chi è rivolto? beh rivolto ovviamente alle famiglie della comunità di Pesaro ma ovviamente noi siamo i nostri progetti cercano di entrare anche all'interno di società associazioni o comunque enti che portano avanti comunque discorsi sociali e quindi ad esempio quello della Filosport va a lavorare appunto con terziaro donne ma anche quello di King & Queen con altre associazioni comunque del territorio spostiamoci ora a Vallefoglia visto che in questi giorni è stato approvato dalla Giunta Comunale il protocollo d'intesa con la Guardia di Finanza e la Procura di Pesaro per garantire la trasparenza e contrastare le frodi negli appalti con i fondi del PNRR a breve come comunicato dal sindaco di Vallefoglia Aucchielli verrà indetta una conferenza stampa per illustrare i dettagli sono iniziate le procedure per la selezione e l'arruolamento degli ufficiali dell'arma dei Carabinieri gli aspiranti potranno presentare la domanda attraverso il portale www.carabinieri.it nell'area concorsi seguendo l'apposito hater burocratico tra le novità più importanti di quest'anno vi è la riduzione del limite di età che passa dai 27 ai 25 anni la domanda di partecipazione va inoltrata entro il 18 settembre 2022 9 giovani cantanti dal 30 agosto al 3 settembre saranno a Villa Pavarotti a Pesaro per la quarta edizione di Atelier Bel Canto corso di alto perfezionamento nel canto lirico la masterclass è organizzata da Wunderkammer Orchestra e la didattica è affidata a due maestri d'assoluto prestigio come Alessandra Rossi soprano e docente di canto e Bruno De Simone baritono di fama internazionale sabato 3 settembre alle 18 è in programma il concerto finale che sarà aperto al pubblico dove verranno assegnati premi e borse di studio ai nove partecipanti ed ora apriamo la parentesi legata allo sport parlando di calcio femminile pesarese come la novità che è stata offerta per la prossima stagione da Vispesaro Arzilla vediamo è un progetto che porterà l'unione di due società importanti nel pesarese che sono l'Arzilla e la Vispesaro l'Arzilla già in tanti anni grazie alla mia esperienza al progetto del mix team con l'Academy è partita accogliendo le ragazze e dandogli delle squadre attraverso le rose miste quindi già le ragazzine giocavano insieme ai maschietti dai 5 ai 15 anni nel settore giornale dell'Arzilla dopodiché negli anni l'Avis è entrata sul porto e ha iniziato a creare delle categorie al femminile e oggi siamo riusciti ad unire i due progetti per far sì che una bambina possa entrare da quando è piccolina a quando deciderà di smettere come ho fatto io avere tutte le categorie pronte a supportarla l'Arzilla farà il mix team dai 5 ai 15 anni poi l'Avis Pesaro avrà la categoria under 12 femminile l'Arzilla e l'Avis avranno le categorie under 15 femminili poi l'A17 verrà fatta l'Arzilla in collaborazione con l'Avis e l'Avis concluderà con la prima squadra che milita in eccellenza ora la collaborazione porterà due obiettivi principali crescere di categoria con la prima squadra e in tre anni attraverso le categorie del settore giovanile far sbocciare una primavera nazionale avere la possibilità di costruire di sviluppare una cosa che noi portiamo avanti con tanta passione con tanta volontà con tanta energia e che ha dato dei risultati importantissimi e che ci ha permesso di spingere all'esterno 15 ragazze dal nostro momento ad oggi e oggi poter dire la Vis la città ci permette di sviluppare questo progetto e poter indicare che queste ragazze possono giocare nella città nella loro città nella loro squadra la città credo che sia il più bel il più bel risultato che si possa ottenere gli obiettivi della squadra quest'anno come ha detto il presidente sono ambiziosi anche perché l'anno scorso comunque essendo arrivati secondi a un punto dalla San Benedettese l'organico è abbastanza valido tra l'altro quest'anno ci siamo comunque rafforzati anche se credo che ci saranno delle squadre nuove iscritte una squadra che è retrocessa dalla Serie C il tutto non sarà facilissimo però noi come sempre promettiamo una cosa che possiamo promettere il massimo impegno la massima organizzazione per arrivare all'obiettivo previsto di vincere il campionato è una cosa abbastanza surreale perché ho iniziato quando avevo 5 anni e a 5 anni ho iniziato nell'Arzilla ed ero l'unica femmina ed era molto complicato pensare a un futuro non sapevo nemmeno dell'esistenza della nazionale non sapevo che esistesse il calcio femminile grazie alla Raffaella Magneri poi ho imparato che si poteva avere anche un futuro però adesso arrivare ad avere l'unione tra l'Arzilla e la Vispesero mi sembra un miracolo perché è un po' di anni che ci speravo e adesso sono contenta che le ragazze che nascono che hanno appunto 5, 6, 7 anni abbiano questa fortuna che io non ho avuto però ho continuato sempre a giocare andando lontano da casa e adesso sono ritornata a Pesero e sono contenta di questa unione insomma la Carpegna la Carpegna Prosciutto Basket Pesero ha da oggi ufficializzato l'inizio della campagna abbonamenti per la stagione 2022-2023 come potete vedere dalla grafica questi sono i prezzi per ogni settore in cui si voglia decidere di passare la nuova stagione di Serie A alla Vitri Frigo Arena la VL ha comunicato sul suo sito che per gli abbonati alle stagioni passate sarà possibile sottoscrivere l'abbonamento online su vivaticket.com presso il VL Point Pro di Sport Pesero dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 20 e presso l'ipermercato Spazio Conade di Pesero da lunedì alla domenica dalle 15 alle 20 il Loreto Basket parlerà sempre più argentino visti gli ultimi due colpi di mercato messi a segno vestiranno la casacca blu Octavio Maretto Ala che nella scorsa stagione ha vestito la maglia dell'Aurora Iesi e del playmaker Mauro Araujo reduce da tre stagioni nella massima serie argentina è in via di definizione la trattativa invece con un altro giocatore argentino sarà infatti la guardia Matteo Marziali probabilmente il prossimo acquisto dell'Oreto Basket e con lo sport si conclude qui questa nuova edizione delle Rossini News prima di salutarci però vi ricordo gli appuntamenti in serata infatti questa sera alle ore 21.20 verrà riproposta una puntata della prima edizione di Green Tour la puntata dedicata è quella alla città di Cantiano e poi come sempre vi ricordo l'appuntamento per domani mattina alle ore 7.20 in diretta con Buongiorno Rossini la rassegna stampa dei quotidiani della provincia di Pesero Urbino e poi vi ricordo come sempre di scaricare la nostra app l'app di Rossini TV dove potrete comunque seguire le notizie i programmi insomma scaricatela per stare sempre aggiornati col mondo di Rossini TV e con questo è tutto vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata grazie a tutti